che cosa, se secondo te è utile fare un corso dal vivo insomma, messaggi che vuoi dare al mondo ok secondo me è molto utile secondo me è molto utile fare un corso dal vivo perché cioè tu in un videocorso comunque e anche quando lo fai da autodidatta non hai una persona che ti dice le correzioni, cioè è impossibile riuscire, anche io posso guardare una lezione interpretarla in un certo modo, però poi magari nel corso dal vivo io mi faccio tutto un'idea, come era successo anche per esempio con quella cosa del vincolo temporale e poi il coach la persona che ti segue ti smonta, ti dice guarda che stai sbagliando, così non va bene guarda che a volte io pensavo di fare delle conversazioni carine, decenti e poi magari tu mi dicevi no, guarda qui c'è da migliorare quindi in un corso dal vivo vai proprio in profondità sulle cose, sulle piccolezze che magari possono essere molto fraintendibili, cioè io e te guardiamo lo stesso video ma tu che hai una certa esperienza poi lo stesso video lo capisci in un modo io che lo guardo lo capisco in un altro modo secondo la mia più bassa esperienza quindi il discorso è questo cioè fare un corso dal vivo mi è servito soprattutto per capire quali sono i parametri che ti fanno capire se l'approccio sta andando bene anche se tu non puoi avere controllo perché non tutte ti ovviamente abbiamo questo discorso ce l'hai già fatti cioè non tutte le ragazze alla fine c'è chimica cioè alcune non puoi fare nulla però l'importante è che tu al massimo gestisci la situazione per come puoi fare in quel momento e quindi il corso ti insegna quello magari a gestire una ragazza che si è spaventata o si è incazzata magari in quel momento la puoi gestire al massimo oppure meglio ancora se trovi una ragazza con cui invece è interessata e come è successo in alcuni casi nel corso che ci ho fatto l'instant date e con una ci ho fatto anche il bacio il corso ti insegna a comportarti in quella situazione aspetta della parte del corso andiamo con ordine racconta magari prima cosa è successo nel primo giorno e poi cosa è successo nel secondo giorno ok allora nel primo giorno abbiamo fatto penso tredici approcci e di questi tredici approcci uno è stato un instant date dove è stata un'interazione più o meno di due ore e mezza circa e in questo instant date comunque venivo super monitorato anche da tramite telegram e e sono riuscito a a concludere poi alla fine in una seconda location e poi successivamente in un bacio questo è successo solo il primo giorno il sabato posso già andare il secondo giorno piccola cosa qua l'aggiungo io che questa ragazza ti confermo che sei stato bravo con lei era molto attratta poi siccome era una ragazza che aveva poca esperienza diciamo che non era anche lei completamente a suo agio nella situazione questo sì però ti confermo che era una ragazza che ti potevi scopare anche il giorno stesso e semplicemente sì come hai detto te magari quando ci si trova a volte in determinate situazioni si tende magari ad avere un po' di autosabotaggio perché la tua identità ti dice io non ho mai fatto questa cosa qua e quindi magari tendi a non puntare sempre fino in fondo è successo un po' questo sì esatto ma un'altra cosa che c'è da dire con questa ragazza qua è che io avendo provato la prima volta l'ha presa per mano e quando lei me l'ha rifiutata io per quanto riguarda la mia esperienza piccola per me era ok cosa sta succedendo magari non ci sta poi grazie comunque questo è un esempio di un corso dal vivo di quanto può essere efficace se fossi stato da solo in quella situazione magari non avrei azzardato il bacio perché vedo che non ci sta neanche nella presa per mano allora non provo neanche a baciarla invece visto che tu mi hai scritto su telegram ho visto il messaggio vai tranquillo vai avanti è attratta e tutto ma una persona che comunque è esperta vede la situazione da fuori ti dice anche le cose come sono in quel momento non so se mi so spiegato io ho interpretato la cosa in un modo come Ebo non so se ci sta perché magari non ero lucido ho poca esperienza io lei un po' faceva all'inizio la difficile e invece tu hai saputo vedere la situazione hai visto guarda che questa qui è attratta vai avanti spingi e così è stato se fossi stato da solo io magari non l'avrei neanche baciata questa è la differenza tra a livello proprio di mindset che c'è tra un corso dal vivo e se tu fai da solo magari con un videocorso ci sono cose che non si riescono a capire subito magari ci vuole troppa esperienza tanta esperienza per capirle certe cose se parti comunque da un livello base ok direi che ti sei spiegato benissimo e invece per quanto riguarda il secondo giorno il secondo giorno abbiamo fatto molti più approcci probabilmente c'era anche più ero anche più spinto rispetto al primo giorno quindi abbiamo fatto mi sembra 23 se non sbaglio e anche lì c'è stato sì anche lì c'è stato un instant date bisogna anche dire che alcuni approcci me li sono bruciati per stupidità mia che poi alla fine dell'approccio tu mi dici ma perché perché sei andato via cose del genere vabbè però poi quando è arrivato quell'approccio dove ero io anche probabilmente più spinto ero anche più riscaldato e tutto e la ragazza comunque era non aveva troppo da fare era in giro a fare shopping e tutto sono riuscito a fare bene l'invito dell'instant date sono riuscito a portarla in instant date quindi anche lì c'è stato più o meno come il giorno prima prima location seconda location e anche questa è tutta comunque esperienza che adesso dopo il corso mi porterò avanti non ho capito bene la situazione magari non ho neanche letto bene i messaggi perché in quel momento insomma un po' devi leggere i messaggi un po' devi parlare con la tipa e tutto non ho capito che la tipa era molto da relazione era molto attratta e io mi stavo comportando in un modo come se non la facessi sentire speciale però un po' non sapevo non ho letto bene i messaggi un po' non ho interpretato bene la situazione un po' mancanza di esperienza non sono riuscito a fare quella cosa lì e quindi niente con questa anche se era un bacio sicuro anche qua sicuramente un bacio magari non so forse avrei potuto anche portarla a casa perché sì aveva qualcosa da fare ma non era non aveva un impegno preciso aveva un sì beh dopo forse devo andare a fare delle foto quindi non si capiva probabilmente avrei potuto anche portarla a casa o comunque farci qualcosa forse sì ti confermo che addirittura la ragazza del secondo giorno era più attratta di quella del primo eh lo so ok messaggi che vuoi lanciare al mondo riguardo al corso dal vivo altre cose che vuoi dire considerazioni cose che ti vengono in mente ma io consiglio di di farlo assolutamente cioè soprattutto se uno è nella situazione in cui diciamo è iniziale perché comunque ti porta parecchio avanti rispetto a prima cioè anche magari non non dico farlo quando proprio non hai mai fatto un approccio nella tua vita perché vabbè quello consiglio di fare un pochino di pratica però una volta che uno comunque ok ha provato l'approccio ha provato a parlare ha fatto due robe lì il prossimo step è fare un corso dal vivo perché ti accelera di tantissimo eh quello che tu puoi imparare e appunto ci sono situazioni che anche se tu hai il corso dal video corso registrato tu non riesci se all'inizio hai poca esperienza non riuscirai a interpretarle al cento per cento alcune cose c'è bisogno di qualcuno che davanti ti ascolta mentre tu parli tu appunto con le cuffie sentivi ogni cavolo di parola che dicevo alle tipe sentivi quello che come rispondevano loro sentivi tutto vedevi la situazione e quindi riuscivi a capire cioè era come se fossili con me praticamente quindi c'è un corso registrato non è la stessa cosa cioè nel corso registrato io posso apprendere una lezione però questa lezione qua la posso interpretare in dieci modi diversi a seconda della mia esperienza invece col corso dal vivo non c'è nessuna interpretazione cioè fai così punto tu hai questa situazione hai detto questa cosa qua no non dovevi dire questa cosa qua in questa situazione dovevi dire quest'altra cosa qua dovevi fare così c'è tutto molto più preciso più dettagliato ok se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti letto nuove ragazze regolarmente allora clicca sul link qui sotto in descrizione hai domande o dubbi scrivi su whatsapp gratis a un nostro consulente esperto anche qui trovi il link qui sotto in descrizione grazie a tutti